Nena! Eheh, e non è questo che si spera? Che anch'io ho detto. E stavo facendo il coffee. Oh Cristo! Ma questo è Adriano Scelentano? Eh si, perché anch'io lo stavo. Ma lei... Che c'è Nena! Parole, parole, parole... Ma... Ehi... C'è anche Rocco Papaleo! Ma vediamo che cosa ha fatto Adriano Scelentano nel bagno. Ahia, nel bagno. E io fiscio bianco come Gesù Cristo a croce. Ma quella è acqua santa! E prenderò io fiscio con le mani e ve lo schizzerò nel bisogno. Eh schizzacelo, spigliano un po'. Lo prendo eh? Eh no, ho preso davvero! E' credibile! E questo è fiscio! E' credibile! Signorina! E' il mio fiscio forte! 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 Adesso però un video con... ...che... Perfetto, grazie! E' il mio fiscio forte! Aspetta! Aspetta! Ma hai ripresato a uscire? Va, vai! Ma è partito! Aspetta! Cioè è partito! Sì sì! Esci, esci Ma te c'è quello che tu si chiama la memoria C'è quello Ma muori Ma no, ma no Ma no, ma no Ma no, ma no Ma vediamo chi c'è questo bagno Grazie